ad ascoltare perché contiene concetti molto 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 importanti ecco le mie 8 9 anzi regole vedi quanto sono preciso regole di lettura ovvero come faccio io a studiare come sono arrivato a leggermi nel 2021 80 libri allora prima di tutto avrei visto dall'immagine precedente che c'è un altro video leggo tutti i giorni di sessione di lettura 603 giorni ecco questo è la cosa più importante anche solo 15 in realtà 14 minuti e leggo solo in digitale secondo me questo fa la differenza uso ibooks possibilmente ho usato anche kindle non il kindle l'app kindle su ipad ho provato in passato tutti i tipi di kindle li ho confrontati con un ipad mini emette molta meno luce la luce di notte quando io spesso leggo e mi sveglio poi o prima di andare a dormire o mi sveglio leggo magari per un'oretta poi mi addormento emette con la configurazione tutte minime di entrambi tutto ottimizzato ovviamente l'ipad mini emette meno luce quindi lo preferisco lo preferisco alla lettura cartacea nel 2016 se vi ricordate andate a vedere l'articolo su blog news punto net ho iniziato dicendo di leggo solo cartaceo adesso leggo solo digitale non sono riuscito a leggere nemmeno i fumetti in cartaceo li ho comprati in digitale poi vedremo tra i libri letti quale sono mi piace l'idea di possesso il possesso digitale in questo caso e quindi a fine di quest'anno ho fatto dei cambiamenti o disdetto abbonamento a kindle che hanno e audible che hanno quest'idea dell'affitto no preferisco se ascolto un qualcosa acquistarla e averla sempre a disposizione e cose simili quindi quegli abbonamenti tipo biblioteca ahimè da sporco ricco capitalista che sono non non fanno per me pulito pulito ricco capitalista mi lavo spesso non troppo ma spesso e quindi cose per il podcast uso l'app castro a due per tolti silenzi mentre cammino vado in bici questo a qualcuno non piacerà gli da molto fastidio a certe persone che ascoltare le cose velocemente gli dà fastidio che gli altri ascoltino le cose velocemente e ti devono dire loro qual è l'ideale per te perché loro i grandi esperti sapienti della cosa italiana sanno meglio di te come funzioni prova io sono iniziato a velocizzando un po mi trovo molto bene e come per me aumenta la concentrazione e poi soprattutto i podcast mi servono non per memorizzare tutto per ma per trarre per metterli nella mente subconscia per avere lì delle idee che poi germogliano come ripeto sia il garbagine garbagia auto cioè se tu metti qualcosa di qualità nella tua mente prima o poi ne verranno fuori anche dei pensieri di qualità si spera ecco sulla tv sulla tv android uso google tv l'altra uso smart tv next beta a 1,5 di solito però varia in base ai contenuti ovviamente per i blog uso le iscrizioni rss confidi di or leader ho fatto un video i tempi su come creare il tuo giornale come crearti la tua tv quindi quello che vedo sono le mie iscrizioni di youtube e i feed rss i blog vengono messi in queste app sono abbonato anche a quattro servizi assunto libri per il self help come vedrai non ho letto nemmeno un libro di puro self help ho letto filosofia ho letto psicologia ho letto tanti argomenti ma nemmeno un libro di self help di miglioramento personale di crescita personale sviluppo personale chiama come vuoi nel 2021 che sia puro ecco io seguo i miei interessi e le mie passioni del momento quindi va a periodi c'è un periodo che mi interessa un argomento ci sono degli autori che seguo sempre quando producono qualcosa eccetera quello che è importante imparo ogni anno e lo rivedo insieme a te in questa serie che parte al 2016 mi pare che non abbiamo pubblicato un anno il 2018 vedrò di pubblicarlo come arretrato adesso ne parlo con i miei collaboratori l'importante è imparare cioè si fanno degli errori di lettura ad esempio dall'ultimo un libro della facciamo nomi melania robinio molto popolare con una tecnica sola quella del 5 4 3 2 1 vai e fai l'azione che devi fare ecco per quella cagata un libro con degli estratti anche da facebook più spazzatura di quel libro non è letta da quella ho imparato che il self help è meglio lascerlo stare e lo rendo piacevole è un gioco è una sfida con me stesso quindi l'anno scorso ne ho letti 56 quest'anno sono arrivato a 77 l'anno prossimo spero di fare meglio ma non è importante cioè quello che sono contento che la qualità di quest'anno di tutti i libri letti non ce n'è neanche uno che io reputo spazzatura quindi bando bando alle ciance vediamo insieme i migliori i nove migliori libri che ho letto nel 2021 secondo me ovviamente sentiti la prima parte perché spiega il perché devi stare attento quando qualcuno ti consiglia un libro allora i nove migliori libri qui ci ho messo anche il link amazon perché secondo me tutti dovrebbero leggere il primo è il libro di kai fu lì ai 2041 disponibile solo in inglese peraltro tradotto dal cinese dall autore sotto dal traduttore sotto c'è in qui fan e fantascienza ovvero come si dice la fantascienza dura quella piena di scienza per capire l'intelligenza artificiale ai ai chiamano come vuoi è il futuro che già qui kai fu lì è un esperto di quel settore che mi pare che sia al soldo sia di google che di apple e di solito queste aziende non condividono i dipendenti è un libro eccezionale secondo me che tutti dovrebbero leggere storie narrative e poi spiega la parte scientifica moderna attuale della futura 2041 perché porta avanti di vent'anni l'orologio di quello che sta per arrivare dal suo punto di vista che però ricordi non è un futurista che va avanti a prevedere il futuro ma è uno che lo sta creando poi steven kotler l'arte dell'impossibile mi anticipo anche sotto al prossimo il giorno esatto in cui rilasciato il mio corso ci ho messo un anno a fare anche per provarlo insomma è uscito anche il libro in italiano quindi c'è anche in italiano l'arte dell'impossibile che cosa innesta le prestazioni straordinarie ho fatto la mia versione con l'aggiunta anche di protocolli sul flusso con l'aggiunta di protocolli in un anno l'ho messo dato che io conoscevo già il lavoro di kotler perché sono suo iscritto sui mastermind eccetera lo seguo da tempo è incorporato al mio lavoro quando ho parlato di miglioramento personale scientificamente basato ci hanno dei concetti prese da lui insomma l'ho diviso in più hna e che ne ha sono le mie accademia di miglioramento personale un corso al mese da qualche parte troverai il link sotto la descrizione se vuoi scoprire cos'è se vuoi iscriverti spero di rovinarti per sempre la tua formazione personale con una formazione di un altro livello che non ha niente a che fare con gli altri comunque questo libro è un capolavoro secondo me va letto parla di flusso stati di trans altre prestazioni come entrare eccetera questo successivo sapiens la graphic novel ammetto di non aver letto i libri ufficiali di harari magari il rimedio quest'anno ma nel 2022 magari no non lo so questi sono gli unici libri che ho preso cartacei in italiano e non costano poco in inglese con l'italiano gli ho regalati e poi li ho presi in digitale per leggerli perché avevo già preso il primo l'anno scorso ma non l'avevo finito cartaceo cartaceo in inglese mi sono messo lì l'ho letto in digitale bellissimi ha espanso il suo libro sapiens a rari lo storico noto secondo me questi fumetti ve li dovete guardare anche perché richiamate fumetti sono graphic novel comunque per dimostrare che è un tipo di conoscenza che può essere distribuita anche in questa forma ed è godibilissima altamente altamente raccomandati gioco wheeling lo sapete tutti il mio navy seal preferito ci sono altri gogings come si chiama l'altro mark divine ci sono tanti altri ma gioco è gioco e questo libro è uno di quelli senza frondosi codice valutazione protocolli come pensare in modo militare come pensare disciplina uguale la libertà su altro libro e poi finalmente un italiano vedrete che mi sono letto tutta la serie di di giorgio nardone un grande quello che ha portato la scuola di palo alto fondata l'ha portata in italia psicosoluzione a mio parere il primo libro da leggere di psicoterapia coaching strategico raccomando a tutti di leggerlo secondo me è più oniproprensivo la sua produzione poi sotto ti dico altri autori che ho letto tutti validi è tutto tutto bello tutto quest'anno è tutto bello 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 non ci sono poi ho messo un po in ordine di gusti però in coso scienza del respiro cercavo un libro sulla respirazione e sulla scienza però del pranayama che comunque pratico da un bel po e poi ho trovato il libro di mike maric ma io mike maric lo conosco di persona nel 2006 questo pazzo furioso mi ha certificato come apneista per l'apnea academy di umberto pellizzari e l'ho trovato l'ho letto a due libri li ho letti tutte due questo secondo me il più bello e principale è una bella persona un bel essere umano seguitelo sui social e cosa vi devo dire un libro se vi interessa il pranayama leggetelo perché se gli apneisti lui è stato anche campione del mondo gli apneisti conoscono lo yoga e il pranayama meglio di chiunque altro poi con iri andrea coming to wellness se cercate tecniche di pnl transpersonali prendete il mio audio però il libro è disponibile in kindle unlimited vedete della buona con iri sentitevi l'introduzione che ho fatto che vi spiega meglio chierei e questo è la fine per questa puntata nella prossima i tre migliori podcast secondo me su su audible e e poi vediamo tutti gli altri libri coletto faccio un commentino per ognuno senza divulgare senza scusate divulgarmi mi sto divulgando e mi sto dilungando un po troppo ciao alla prossima